Buche, asfalto sconnesso e marridotto, strade dissestate. È la denuncia che arriva ad alcuni residenti del quartiere Sagnino, che segnalano e disagio la situazione di pericolo per chi vive in quella zona. Viartaria, in particolare dal Civico 7 al Civico 9, è diventata un percorso. Ad ostacoli fanno sapere residenti. Una situazione segnalata già da tempo. I cittadini si sono infatti rivolti al Comune nel dicembre del 2017 con una petizione indirizzata al sindaco Mario Landrescina per chiedere un intervento di sistemazione messa in sicurezza di alcune strade, tra cui anche Viartaria. Da vent'anni ormai il Comune manda su questo piccolo tratto di strada ogni tanto tecnici per sistemare il manto stradale, ma dopo pochi mesi si è punto e da capo, dicono ancora i residenti di Sagnino. Ma non si tratta dell'unica strada dissestata della zona. A poca distanza da Viartaria, buche e asfalto marridotto, anche in via Canova e in via Solari. Vorremmo ricevere una risposta al più presto, concludono i residenti, e non l'invio della solita squadra di intervento per rappezzare, perché non serve.